è stata ospite nell'ultima puntata di oggi 28 giugno 2020 di domenica in la bellissima e bravissima romina power la quale pensate che avrebbe abbracciato ha abbracciato maravini la conduttrice ovviamente gelo è arrivato in rai per il gesto in questione perché vi ricordo che di fatto de fatto è stato un gesto piuttosto sconsiderato perché sconsiderato perché in qualche modo in qualche maniera siamo ancora con il covid 19 con il coronavirus e un abbraccio seppur lieve va ad avvicinare due persone che potrebbero contagiare contagiarsi da covid 19 da coronavirus ed ecco che il gesto in questione è stato stigmatizzato ma l'abbraccio è stato perché romina power di recente ha avuto ha subito un grave tutto una grave perdita di cui però non voglio parlare grazie al video termina qua iscrivetevi se vi va commentate un saluto in caro da leandro narratore litaliano